Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Il rudimento di questa settimana è il drag, ossia due note delicate prima di un accento, due ghost note, chiamatele come volete, comunque ta ta pa oppure ta ta pa. Importante, il drag può essere più corto, ra o kakata o più largo, a seconda della vostra interpretazione. Vediamo insieme il drag, quindi un rudimento molto interessante, molto importante, due note delicate, due ghost note prima di una nota primaria. Rba, 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 rba. Vi ricordo che questo è il Raffaeseni 40 Weeks Rudiment Challenge. Ogni settimana andremo a vedere qui su YouTube 7 applicazioni di ogni rudimento presente nel mitico poster dei 40 rudimenti. Ci tengo a precisare che quelli più difficili per me li sto lasciando alla fine perché li sto studiando, mentre in queste settimane ho pubblicato tutti quelli che conoscevo già grazie al Great Hands for a Lifetime di Tomi Aigo. Detto questo, via col prossimo rudimento. Drag. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.